Con il titolo Mundus Novus, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru e Repubblica Dominicana sono presenti uniti alle Bennali di Venezia nelle artiglierie dell'Arsenale. Commissario dell'esposizione è Patricia Riva de Neira con Alessandra Bonanni, curatrice ne è stata la compianta Irma Aristizibar, massimo esperto delle arti sudamericane. Chiaramente gli artisti latinoamericani portano in sé ciascuno il proprio background di origine, con tutto ciò che questo implica. non tralasciando però quanto di attuale c'è nel mondo contemporaneo e nella sua storia. Badiglioni occupa 700 metri quadri e non è diviso per paesi e stenzioni, bensì seguendo l'idea di fare mondi, voluta dal direttore del settore arti visive Daniel Birnavalli, unendo le opere di 12 artisti in un'unica sede, consentendo il dialogo sia tra loro che con lo spazio espositivo, mettendo in mostra i diversi stili di ciascun artista. In proposito, Ramses Larzabal espone l'interessante opera intitolata Nube del 2009. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.